Sono affidati al drone sottomarino Bluefin le ricerche del Boeing e della Malaysia Airlines scomparso l'8 marzo scorso. Il robot sta mappando un'area di 10 km a una profondità di oltre 4.000 metri. Il costo delle ricerche è stimato in un centinaio di milioni di dollari. L'operazione sarà la più costosa nella storia dell'aviazione.